È evidente la pericolosità dei pali collocati sul lato mare invece che, come il buonsenso, avrebbe suggerito sul cordolo del lato monte in quanto viene ridotta la larghezza della pista e si aumenta la probabilità di urti fra ciclisti che percorrono i due sensi di marcia. Questa è la critica di un nostro telespettatore condivisa anche dal signor Ceresani, un cittadino appassionato di sport e di viabilità sostenibile. Premettiamo una cosa, ci cade dal cielo per provvidenza una pista ciclabile così attesa da anni, tanto di cappello, ben venga la pista ciclabile, ma i comuni utenti della bicicletta dicono a parità di spesa si potrebbero far meglio i lavori, allora prevedendo, per lo meno chi va in bicicletta costretto a progettare, dice un impiccio come un palo lì dove è transito, vorrei poterlo non avere. Buon senso direbbe questo, qui il buon senso chiaramente non c'è stato, allora a sto punto chi ha progettato questo dovrebbe dire scusate ho messo un errore, molto tranquillamente per cui digerite così com'è e questa sarà una cosa che si sarà costretti a digerire. Il dubbio sorgerà quando l'imbranato o il distratto o chi si incrocia inciampa una manopola, un freno contro e subisce dei danni. A quel punto viene da pensare a chi si rivolge all'ufficio traffico del comune, alla provincia, al progettista, perché in previsione qui eventuali cadute sono da mentare in conto. A tal proposito Aset S.P.A. che sta eseguendo i lavori ha voluto precisare che ha provveduto a definire solo il progetto di illuminazione, mentre gli aspetti relativi al posizionamento dei pali erano stati definiti dal progetto preesistente, approvato e realizzato dalla provincia di Pesero e Urbino. Per migliorare la sicurezza degli utenti inoltre sono già state posizionate delle segnalazioni catarifrangenti e sempre sull'argomento il Movimento 5 Stelle di Fano ha presentato un'interrogazione per chiedere al Sindaco Serie alla Giunta che cosa prevedeva il progetto originario, se è possibile modificarlo anche in fase di esecuzione dei lavori e se sono state richieste eventuali autorizzazioni alle ferrovie dello Stato per posizionare i nuovi lampioni aderenti alla recinzione in cemento che delimita il sedime ferroviario.